Io devo rispettare quel 3% e rispettando quel 3% le nostre imprese chiudono, i nostri cittadini stanno peggio. Io non lo rispetto semplicemente, come tra l'altro hanno fatto la Francia come la Germania ha fatto per quanto riguarda altri parametri. I parametri sono da rispettare ma non per uccidere la nostra economia, altrimenti vanno cambiati. Maastricht è del 92, era preistoria, nel 92 non era possibile questo collegamento anche se oggi è un po' difficoltoso ma riusciamo a sentirci. È colpa dell'Europa, non è colpa nostra, è colpa dell'Europa. Tenga presente che nel trattato abbiamo visto prima la firma del trattato di Maastricht. Nel 92 c'era Scalfaro, nel 92 c'era il gettone e la cabina telefonica. Siamo andati avanti, lasciateci anche cambiare quei trattati che non hanno funzionato. Questa Europa che non funziona, non lo dico solo io o solo a Lega, lo dice anche i succedisti popolari. Lo dicono tutti.